Notizierio CIS sulle limitazioni al traffico del 20 novembre 2024. In Sicilia, sull'autostrada 20 Messina-Palermo, in fascia oraria 22.6, è chiuso in entrata lo svincolo di patti in direzione Palermo, uscita obbligatoria lo svincolo di patti con rientro a Brolo. In Liguria, sulla strada statale 582 del Colle di San Bernardo, è attivo un senso unico alternato in fascia oraria 7.30-18, all'altezza dello svincolo di Cisano sul Neva, in provincia di Savona. In Toscana, sulla strada statale 716, raccordo di Pistoia, è attivo a una riduzione di carreggiata nella fascia oraria 21.6, all'altezza dello svincolo di Pistoia, in entrambe le direzioni. In Calabria, sulla 2, autostrada del Mediterraneo, in fascia oraria 7.17, è attivo a una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Santrada e della 2, raccordo di Reggio Calabria in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero gratuito del Cis 1518 e il sito Cis.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario Cis, per viaggiare informati e sicuri.